Oggi ci troviamo a Genzano, intervistiamo il neosindaco Flavio Gabbarini, innanzitutto tanti auguri sindaco. Grazie, grazie. Ecco, la prima domanda che sorge spontanea, come direbbe qualche giornalista sportivo, c'è stato il passaggio di consegne tra lei e l'ex sindaco Enzo Ercolani? No, purtroppo no. No, speravo in un colloquio cordiale per scambiarci delle idee su quello che è stato fatto e su quello che dovremmo fare. Insomma, proprio il cosiddetto passaggio di consegne, non c'è stato, non mi sono meravigliato, ma comunque andiamo avanti. Sto facendo in questi giorni dei colloqui con la segretaria comunale e con tutti i dirigenti e le posizioni organizzative del comune per cercare di capire il lavoro che è stato fatto o dei lavori che stanno in scadenza. Facciamo ripartire Genzano. Ecco, in che senso facciamo ripartire? È stata ferma in questi anni Genzano? Adesso non è che dobbiamo riempire la campagna elettorale. Diciamo che in questi cinque anni Genzano si è fermata, si è fermata come iniziative culturali, si è fermata come innovazione. Non abbiamo visto innovazione nei servizi che eroghiamo alla cittadinanza, non abbiamo visto la realizzazione di alcune importanti opere pubbliche che potevano dare il segno del cambiamento. Mi riferisco in particolar modo alla dotazione dei parcheggi. Erano dei progetti che c'erano già prima, non sono stati attuali. Si parla meno di Genzano. Genzano non fa più notizia. Quando un comune fa notizia, si parla di questo comune, vuol dire che la gente si può recare maggiormente nel nostro comune e quindi dare un contributo allo sviluppo economico del nostro comune che si basa soprattutto sul commercio, sul turismo e sull'artigianato. Questo è un po' il senso. Sindaco, lei già in precedenza è stato amministratore per questa città, era assessore con il sindaco Pesoli, addirittura è stato vicesindaco, una carica di cui è stato spodestato con Ercolani. E come mai la scelta di candidarsi a sindaco e soprattutto da chi è formata la sua squadra di governo? Perché la scelta di candidarmi a sindaco? Allora, nel momento in cui ho avuto una grande esperienza amministrativa, ho fatto il consigliere comunale quando c'era ancora il sindaco Cesaroni e poi con il sindaco Cesaroni ho coperto la carica di presidente del consiglio comunale, quindi è stata anche una grande esperienza. Poi ho fatto il vice sindaco, l'assessore all'attività produttiva e i beni culturali con la giunta Pesoli. Poi c'è stata con la giunta Ercolani questa mia defenestrazione. La mia defenestrazione ha rappresentato un po' la crisi della politica, della politica partitica, perché la mia defenestrazione nasce da accordi all'interno del partito di maggioranza. Lei, lo ricordiamo, faceva parte del PD ma prima era un'ex Margherita, quindi nel PD è confluito il momento in cui c'è stata l'unione tra DS e Margherita. Io fui oletto con la Margherita, poi è stato formato il Partito Democratico, poi lotte interne, gruppi di potere, lobby, correnti, hanno deciso la mia defenestrazione. Ma io non ne faccio un caso personale. L'analisi che faccio io è che quella è stata la massima crisi della politica genzanese e poi si è visto andando avanti. Lo stesso PD poi non è riuscito ad esprimere un candidato unitario. Il PD non è stato in grado in questi anni di tenere unita la maggioranza, perché non è che è andato via soltanto Gabarini, è andato via Rifondazioni, Comunisti, Lapi, si è diviso a metà il PD. Il PD hanno perso questa battaglia elettorale, quindi c'è stata una dirigenza non all'altezza della situazione. Ma io mi sono candidato non per i piccani confronti del sindaco, ma nei confronti del PD, perché ho capito che c'era bisogno di una svolta, una svolta anche nel modo di far politica. Bisognava secondo me riavvicinare la gente alla politica e mi sono impegnato da qualche anno a questa parte in un movimento civico che abbiamo messo in piede ad altri amici. E questo movimento civico ci ha permesso di dialogare apertamente con la gente e di avvicinare tantissimi giovani che se questi giovani oggi o prima venivano chiamati dai partiti politici non rispondevano all'appello. Attraverso i movimenti civici dove c'è massima libertà di espressione, di idee, veramente c'è stata una collaborazione nel formare il programma, abbiamo visto che nel movimento civico può fare qualche cosa. E poi adesso non mi voglio paragonare né a Pisapia né a De Magistris, però è lo stesso filo che ci unisce. L'hanno detto i giornali, i giornali hanno parlato di Napoli e Milano, ma io ci metterei anche un pizzico di Genziano, perché Pisapia, come hanno detto, non era il candidato ufficiale nella prima fase delle primarie del PD. De Magistris non è stato il candidato del PD. di Cabarino non è stato il candidato del PD. Però insieme abbiamo cercato di portare una ventata nuova di cambiamento. Noi siamo stati in grado di interpretare la ventata di cambiamento che necessitava anche qui a Genziano. La sua giunta da chi sarà composta? Posso dire al 99% che il vice sindaco sarà Giorgio Ercolani. Mi deve dare una risposta, ho parlato proprio ieri. Ex Presidente del Consiglio, anche lui ha avuto sospeso, questo è il termine che sembra che hanno usato dal PD, ma è stato il primo letto della lista civica, Genziano Democratico ha preso più di 400 preferenze ed era il papabile candidato nell'eventualità il PD avesse accettato le primarie. Quindi io sono contento per lui perché ha avuto un ottimo successo, una persona che conosco tanti anni, seria, preparata, e ho chiesto di darmi una mano e quindi di ricoprire la carica di vice sindaco. Le altre cariche dobbiamo vederle qualche settimana, ma cercheremo di fare una nuova giunta prima dell'infiorata. Quali saranno le prime azioni di governo della giunta Gabarini? Sono tante cose da fare, è difficile dare le priorità, ma dicevo poco anzi ai dirigenti dell'ufficio tecnico e della segretaria comunale, perché le cose più importanti è garantire la raccolta dell'immondizia e poi garantire il flusso dell'acqua continuo. Quindi il problema dell'acqua e della nettezza urbana sono le cose principali. Abbiamo sempre cercato di dare una risposta puntuale, ma bisogna sempre stare allerta. Bisogna stare allerta perché abbiamo visto quello che abbiamo passato con l'arsenico nell'acqua, bisogna stare attenti perché adesso nel periodo estivo ci può stare un minore flusso di fornitura di acqua dalla parte del Sembrivio, anche da parte dei nostri pozzi e quindi è un problema importante che oggi ho chiesto agli uffici di seguire attentamente questo problema. E poi il discorso della nettezza urbana, perché ho saputo proprio adesso che c'è una nuova gara di appalto, perché l'appalto con la vecchia ditta è scaduto, quindi stiamo in fase di gara di appalto. È un appalto a livello europeo, un appalto complesso ed è un appalto che prevederà anche la raccolta differenziata. Io ho proposto anche nei momenti in cui ci sarà la nuova ditta di sperimentare la raccolta differenziata cominciando dalle zone periferiche, l'Andi, Colle di Cicerone. Quindi queste sono le due priorità, perché sono problemi da risolvere definitivamente, ma sono problemi che vanno seguiti tutti i giorni attentamente. E poi ci sono tantissime altre cose. Poi la priorità in questo momento è cercare di portare avanti il lavoro già iniziato dalla vecchia giunta, dal vecchio sindaco, quello dell'Infiorata. A proposito dell'Infiorata, Infiorata, Festa del Pane, Palazzo Sforza Cesarini, tantissime le attrazioni di Genzano, una città che sul suo turismo potrebbe davvero rilanciare l'economia. A Genzano abbiamo una lunga tradizione di accoglienza, ma che non nasce da oggi. Genzano è stato sempre una città contadina, però già dall'epoca, parlo dei primi del Novecento, fino a subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, i contadini hanno dato sempre molto ospitalità, i contadini che lavoravano nel proprio terreno e poi ospitavano la gente nelle fraschette e nelle cantine. Poi gli stessi agricoltori, gli stessi contadini hanno avuto la capacità di trasformarsi in commercianti e a Genzano ha una bellissima catena commerciale. Quindi questo ha fatto sì che si è sviluppata molto l'accoglienza, quindi il contadino che era aperto al confronto con gli altri. E poi gli scambi sempre con Roma hanno favorito il discorso dell'apertura mentale e dell'accoglienza. Partivano i carretti a vino, prima dell'ultima guerra mondiale, andavano a Roma. Fino agli anni Sessanta, anche inizio anni Settanta, abbiamo continuato a portare il vino a Roma. C'è questo scambio con la Capitale che ha portato molta accoglienza. Bisogna ricordare queste cose. Quindi ripartire dalle origini. Ripartire dalle origini, sì. Innovandole con la cultura che c'è adesso, E se non vorrei questa innovazione, ad esempio, non potrebbe anche partire in un certo senso creando delle strutture ricettive che qui i Castelli Romani sono abbastanza carenti. Sì, sono abbastanza carenti. Anche a Genzano sono carenti. Ho saputo questi giorni che il più grande albergo sembra che sia stato acquistato, visto che stanno facendo dei lavori, sembra che sia stato acquistato in una società di Rimini. Quindi benvenga, perché noi non abbiamo grandi strutture. Però, ritornando alla domanda di prima, noi abbiamo delle strutture, le ha citate. Il Palazzo Sforza Cesarini, il Parco Sforza Cesarini, la valorizzazione delle coste del lago, almeno per quello che riguarda Genzano, il Museo delle Navi Romane, ma mettendo anche poi insieme le ricchezze che ha il comune di Nemio di Ariccia. Se ci mettiamo tutti insieme, possiamo attrarre migliaia e migliaia e migliaia di turisti. Allora lì bisogna avere, non tanto la mentalità, bisogna organizzare il turismo, ma bisogna anche preparare delle nuove professionalità che oggi non abbiamo. associazioni, guida turistiche, ragazzi che sanno parlare due, tre, quattro, cinque lingue, dire ai nostri ristoratori di essere non tanto più accoglienti, ma di essere più capaci nel proporre le nostre tipicità, nell'indirizzare i turisti verso alcune risorse che abbiamo comunque presenti. E' anche da fare un grande lavoro. Io penso però che ci sono tutte le possibilità e noi per far questo ci appelleremo agli imprenditori, ai commercianti, ma soprattutto anche ai giovani, perché i giovani hanno tantissime idee da portare avanti. Un ringraziamento ai suoi elettori e soprattutto a tutti i cittadini di Genzano, perché adesso non si parla più di elettori, al sindaco di tutti. Che cosa si sente di assicurare ai suoi cittadini? Cosa sarà Flavio Gabarini per loro? Sarò... Sembra una cosa scontata. Io cercherò di essere il sindaco di tutti, non il sindaco di un partito o di una coalizione. Sembra una cosa scontata, ma io la dico perché ci credo. E questo rappresenta un po' la mia persona, la mia personalità, il mio carattere. Io non ho nemici. Posso avere nelle campagne elettorali degli avversari, ma il giorno dopo dimentico tutto, non c'è problema, riesco a confrontarmi con tutti. Io prendo l'impegno che mi impegnerò con tutte le mie possibilità a cercare di migliorare il nostro paese, dando una mano soprattutto a quelle persone che stanno nel disagio, che nel disagio economico, anche nel disagio fisico. Questa è una priorità. Noi spesso parliamo sia di sviluppo economico, parliamo del tempo libero, parliamo delle manifestazioni culturali, tutte cose importanti, ma non dobbiamo mai dimenticarci di questa fascia di persone che hanno il disagio fisico e il disagio economico. Ce ne sono tanti, quindi ha che combattere il più possibile la povertà. Però la povertà non dobbiamo combatterla soltanto con l'assistenza. La povertà la possiamo combattere se questo paese riesce ad imboccare una strada di sviluppo che può creare ricchezza e quindi posti di lavoro anche per quelle persone che oggi si trovano nel disagio economico. Per quanto risalda il disagio che riguarda la salute ci impegneremo anche qui con i sindaci della zona a fare una battaglia per potenziare le nostre strutture. Non è possibile, lo ripeto, l'ho detto in campagna attuale, lo ripeto, non è possibile che il nostro ospedale sia lasciato in questo Stato. Non è possibile che il pronto soccorso di Albano sia lasciato nello Stato in cui sta, ossia non è in grado di poter dare risposta alle centinaia, centinaia di persone che purtroppo si regano presso il pronto soccorso. Quindi l'impegno è darci da fare il più possibile per migliorare le condizioni complessive di vita del nostro comune e un impegno per i giovani. I giovani, lo sappiamo, è la cosa più bella che ha un paese che ha una nazione. I giovani devono avere la speranza. Bisogna che noi il nostro piccolo diamo ai giovani la speranza di poter migliorare la loro situazione. La speranza che loro possono avere un posto importante all'interno del nostro comune, all'interno della nostra società. Ecco, ai giovani bisogna dare questo senso di speranza. Dare le opportunità di poter realizzare quello che hanno nella loro testa che adesso sembra un sogno che è un sogno ma che dobbiamo dare la certezza che un domani questo sogno si può realizzare. Quindi se il giovane ha fiducia nelle istituzioni ci sarà a venire sia per Genzano sia per la nazione italiana soprattutto in questo periodo che stiamo in questo anno che stiamo festeggiando i 150 anni dell'Unità d'Italia. Ringraziamo il neosindaco di Genzano Flavio Gabarini augurando un grande in bocca al lupo. Grazie a lei e a tutta la redazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.